ciao a tutti e benvenuti nel canale antecini oggi vi farò vedere l'effetto ottico del famoso triangolo di pen rose nulla di più semplice per crearlo io ho utilizzato tre pezzetti di legno di scarto da 28 mm x 28 mm come dimensioni 165 e 165 poi ho posto due viti una sopra una sotto e il pezzettino è 130 con un taglio a 45 gradi cosa succede trovando l'angolazione giusta quindi basta spostarsi con la fotocamera il telefono quello che avete guardate mi avvicino e si crea questo effetto ottico del triangolo senza fine di pen rose ecco questo è un breve video spero vi possa essere utile che di sicuro i milioni già lo sapevano e in tanti altri milioni non lo sapevano quindi tre pezzettini di legno due vitine e una volta appoggiato rivediamo col telefono mi sposto troviamo l'angolatura giusta ecco a voi l'effetto del famoso triangolo di pen rose grazie a tutti per la visione e se non sei iscritto iscriviti al canale grazie mille tante care cose ah e se ti va mettici pure un like questo video così fatto in fretta grazie ciao a tutti